Una GSA tutto cuore ha battuto la Bondi Ferrara per 74-64 nella dodicesima giornata del campionato di serie A2 maschile di pallacanestro. Al pala Longobaldo di Cividale, gli Udinese di Coce e Lino Lardo hanno vissuto una partita in alti e bassi, bene nel primo tempo soprattutto in difesa. Poi un parziale di 18-1 in favore degli estensi a cavallo tra il terzo e il quarto quarto ha rischiato di far capitolare i bianconeri che però con un'ultima frazione di grande efficacia sono riusciti a ribaltare le soldi dell'incontro e a prendersi due punti preziosi. Beh sì, ieri non era una partita facile, venivamo da un momento molto complicato, sicuramente la squadra non stava andando bene senza di nuovo ripetere ma veramente grandissimi problemi fisici ad allenarsi. Ieri mancavano tre? Sì, con giocatori che bisogna ringraziare tra Inipo e Ferrari hanno giocato veramente in condizioni difficili e perciò non era semplice anche se era d'obbligo la vittoria però non è scontato soprattutto in queste partite qua la palla pesa tantissimo. Devo dire veramente un grazie enorme a tutti i ragazzi perché veramente è stata vinta e devo dire col cuore ma in certi momenti veramente ci siamo inceppati ma in certi momenti veramente abbiamo invece sviluppato delle buone azioni. Perciò c'è stata anche lucidità ma fondamentale due punti, non siamo ancora in linea di galeggiamento perché sicuramente dobbiamo migliorare la nostra classifica ma questa partita ci ha dato la consapevolezza che solo con la squadra possiamo vincere e ieri è stato un bel segnale. In classifica la GSA sale a quota 10 frutto di 5 vittorie e 7 sconfitte al pari di Verona, Imola e quella Aurora Iesi che sarà la prossima avversaria dei bianconeri domenica.